Il ritorno di Zeman da avversario arriva allo stretto. Storia pensate di 34 anni fa. Serie B, stagione 1988-89. Ottavo posto finale, migliore attacco, 46 gol in 38 gare, seconda peggiore difesa, 42 reti al passivo. Era il Messina del presidentissimo Salvatore Massimino e del DS Enzo Nucifora. Tra i giocatori più rappresentativi Giacomo Modica, gli abruzzesi Angelo Pierleoni e Guido Di Fabio, soprattutto Tottoschillaci, che esplose grazie agli insegnamenti del Boemo. 23 gol, capo cannoniere del campionato, cessione alla Juventus e notti magiche di Italia 90. In questa sfida insomma un intreccio di tante storie. Il presente, Messina terzultimo ma in salute, Pescara in serie utile da due giornate. L'avvento del Boemo ha rivitalizzato squadra e ambiente. Rispetto alla trasferta di Agropoli, previsto un ampio turnover. Dentro Germinario, Cupone e Colai. Rientra Tommaso Cancellotti, Lescano dal primo minuto, raffiasco alificato. Ancora assenti Craia e Giabua. Il probabile 11, Plizzari tre pali. In difesa Cancellotti, Brosco o Ingrosso, Messic e Milani. A centrocampo Aloy, Palmiero e Germinario. Se così fosse, Mora comincerebbe dalla panchina. Davanti il tridente, Cupone, Lescano, Colai. Messina terzultimo in classifica, in piena zona play-out, ma rigenerato dalla cura a Raciti. Dopo l'impresa salvezza dello scorso anno, quando subentrò a Capuano, il 63enne tecnico di Catania vuole ripetersi. Raciti è subentrato a Gaetano Auteri. In 11 gare ha raccolto 19 punti, di cui 11 conquistati fuori casa, senza mai perdere. Al Franco Scoglio, invece, 8 punti con 2 KO contro Cerignola e Manopoli. Certe le defezioni degli infortunati Grillo, Catania, stagione finita, e dello scolificato Fofanà, due giornate. Non al meglio Oliver Kragl, tre gol e tre assist per fastidi muscolari. L'ex Crotone, Frosinone, Foggia e Ascoli potrebbe cominciare dalla panchina, al pari dell'ex Antonino Ragusa. Sistema di gioco 4-4-1-1. Il probabile 11, tre pali, Fumagalli, 41 anni, il prossimo 23 marzo. In difesa Berto, Trasciani, Ferrara e Celesia. Sulle fasce Fiorani e Versienti, in mezzo il tandem Mallamo-Conatè. In attacco alle spalle di Perez, Balde, fratello del più noto Keita, ex Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari. Oggi allo Spartak Mosca. Il tecnico Ezio Reciti. Una partita difficile contro un'ottima squadra, che adesso ha anche un valore aggiunto, che è l'allenatore. Però purtroppo non possiamo permetterci di avere timore, di avere paura. Dobbiamo giocarla in modo aperto, dobbiamo giocare per cercare di fare il risultato pieno. Perché in casa è da parecchio che non riusciamo a fare il risultato pieno e che comunque ci serve per l'obiettivo salvezza. Sicuramente il Pescara è una squadra di gamba, tutte le squadre di Zeeman sono squadre di gamba, squadre che in campo macinano chilometri e sicuramente avremo bisogno di forze nuove. Uno sguardo ai precedenti, a Messina e la Pescara non ha mai vinto in nove sfide, quattro pareggi e cinque K.O. Nelle immagini, Serie B, 24 maggio 1987, incrocio Scoglio. Galeone finisce 0-0, reduci dalla passo falso eterno col Modena. 1-2, doppietta di Saurofrutti. I biecazzurri sfoderano un'ottima prestazione, un legno a testa. Gasperini nel primo tempo, Toto Schillaci nella ripresa. Al termine di quella stagione, promozione in A, la prima di Galeone sulla panchina del Delfino. Un vero e proprio miracolo sportivo. Sempre in B, 31 marzo 1991, Pescara beffato al 92esimo, prudezza balistica di Bonomi. Altro 0-0 il campionato successivo. L'ultima volta, Messina risale al 2 novembre 2003. Ancora un pari, ma caratterizzato da quattro gol. La sblocca Emanuele Calaiò, 1-1 di Igor Zagnolo, papà di Nicolò. Pasticcio difensivo di Sbrizzo e Saul Santarelli, sfruttato dall'allora trentenne attaccante siciliano. Il Messina dell'ex Bortolo Mutti, poi promosso in A, impresa storica, la ribalta con Arturo di Napoli. Ma il Pescara di Ivo Iaconi non demorde. 2-2 di Federico Giampaolo, splendidamente assistito da Marco Stella.